E adesso sono otto le partite di astinenza dalla vittoria della formazione Berretti, che non va oltre il pareggio a reti inviolate nel match casalingo col Gubbio. Contro la formazione Umbra, Mister Cagliari ha le prese con una squadra falcidiata dagli infortuni soprattutto in difesa e si deve affidare a diversi calciatori della formazione allievi fra cui Menghin, Straudi, Ursolina e Muneratico, i primi due che partono nell'undici titolare. Avvio di match con i bianco-rossi ad impossessarsi ben presto del pallino del gioco e operare il primo a fondo dopo nemmeno un minuto, allora quando su una ripartenza Rella prova la conclusione dai 30 a 5 metri, ma il suo tiro è centrale e facile preda del portiere avversario. La formazione di Cagliari ci prova anche sui calci piazzati con il sinistro di Blas Bichler che costringe il portiere del Gubbio alla non facile respinta. Sempre solo sui tirole al venticinquesimo Blas Bichler sventaglia a sinistra per Koffler che è finta di andare all'uno contro uno col diretto avversario per poi servire un buon pallone a Rella, il cui diagonale Mancino si perde però sul fondo. Passano tre minuti e Straudi vince un contrasto sulla linea di fondo servendo il rimorchio di Cuen abile a ritagliarsi lo spazio per il tiro, ma la sua conclusione da posizione ravvicinata accoglie solo all'esterno della rete. Primo tempo di chiara marca bianco-rossa che si conclude però sullo 0-0. Nella ripresa il copione non cambia col titolo in costante proiezione offensiva pericolosissimo già al secondo quando Straudi si produce in una poderosa percussione centrale palla al piede per poi servire il taglio di Koffler sulla cui conclusione il portiere del Gubbio compie un autentico miracolo. Passano due minuti e il bel lancio in profondità di Rella viene raggiunto da Koffler che supera il portiere in uscita ma nei presti della linea di porta salva un difensore del Gubbio. Gli ospiti si vedono per la prima volta la mezz'ora del secondo tempo su spiovente da calcio d'angolo e colpo di testa di poco alto di Pucci. Un minuto più tardi ancora sui tiro con bella giocata di Blas Bichler che si libera abilmente alla conclusione ma il suo sinistro sorvola di poco la traversa. Nel finale un'occasione per parte la prima in favore del Gubbio con Taibon Bravo ad opporci alla conclusione ravvicinata di Puccio mentre tre minuti più tardi su passaggio smarcante di Koffler il tiro di Orsolino non inquadra la porta. Finisce 0-0 e continua il digiuno della vittoria della formazione Berretti-Bianco-Rossa ma la prestazione è stata incoraggiante e col recupero dei tanti infortunati. Arriveranno certamente tempi migliori.